in questo video voglio parlare di una cosa molto importante il benessere personale maledizione che mi impappino allora mi impappino ma mi impappinerò e quindi mi impappagallisco come dice qualcuno e continuerò a farlo fino a quando non prenderò dimestichezza però chiusa parentesi il benessere personale anche se ti impappini tra virgolette puoi parlarne perché impappinarsi non vuol dire non avere benessere non stare bene anzi impappinarsi è una pratica ormai quotidiana una morning routine che io faccio ogni giorno eppure sto da dio rido attualmente poi ci sono periodi un po' così però anche l'impappinamento di nuovo va bene l'ho detto il benessere personale torniamo al discorso il benessere personale perché è importante parlare di benessere personale per i marketer allora il benessere personale per i marketer è importante per due semplici e uno perché tutto quello che noi sappiamo fare e abbiamo voglia di fare abbiamo studiato vorremmo fare eccetera eccetera si basa di fondo su come stiamo cioè quello che sappiamo fare lo possiamo fare se noi abbiamo una tranquillità dal punto di vista personale nella nostra vita se stiamo bene bene con il nostro sentire se non abbiamo preoccupazioni se abbiamo un corpo che è comunque lo sentiamo vivo se abbiamo delle persone con cui possiamo parlare non ci sentiamo giudicati se abbiamo persone che ci possiamo fidare aprire se abbiamo ovviamente una serie di fattori intorno che ci stimolano cioè tutto quello che noi sappiamo fare possiamo fare abbiamo studiato per poterlo mettere in pratica e farci qualcosa è sempre legato a noi e questo noi questo nostro essere umano è complesso è nato complesso e morirà complesso nel senso che siamo un miscuio di di attività che ogni giorno ci portano in più parti se decidiamo di fare una cosa come potete immaginare non la portiamo a termine solo quella ma ce ne sono tante altre in corso che portiamo avanti non siamo dei robot delle macchine che programmiamo per fare una sola cosa e poi la facciamo solo quella ci sono di gli imprevisti ci stanno i sentimenti le emozioni ci stanno le sensazioni ci stanno tante altre cose che una macchina non ha un robot non ha è questa cosa qui che non ha a noi invece che abbiamo fa tanto quindi che cosa bisogna prendere consapevolezza che se non ci prendiamo cura appunto del nostro benessere personale del nostro migliore essere direbbe Marco potrebbe essere difficile e faticoso andare avanti a fare quello che vogliamo fare perché è appunto difficile trovare quel tempo necessario poi per poter lavorare in modo sostenibile per far durare a lungo qualcosa senza che ce ne stanchiamo e diventiamo maledettamente stanchi e andiamo magari in burnout cioè burnout che significa proprio andare fuori con le nostre forze e non farcela più avere un momento di fermo di stacco totale poi di apatia di confusione di di stress che non è quel positivo perché ci sono due tipi di stress quello è lo stress e di stress vabbè non sto qui a farvi ora lo spiegone però se volete approfondire ci sono due tipi di stress uno funzionale uno meno funzionale di stress eo stress cioè ci troviamo stavo dicendo ci troviamo in quelle situazioni in cui non c'è possibilità di azione in cui ci sentiamo assolutamente pesci fuori d'acqua non ci sentiamo nei nostri panni non sappiamo più che cosa fare siamo disperati e se siamo arrivati a quel punto è perché abbiamo messo da parte delle cose prioritarie per la salute degli esseri umani che sono le relazioni che abbiamo ogni giorno con le persone quello che noi facciamo con il nostro corpo quindi anche le questioni legate al movimento al respiro al cibo eccetera eccetera e poi quelle legate soprattutto al gioco al divertimento che sono delle cose fondamentali per ogni essere umano quello di giocare quello di divertirsi quello di gioire siamo nati giocando quando eravamo bambini il gioco era la nostra la nostra spinta la nostra il nostro desiderio primo e quando ci siamo diventati adulti poi questo gioco l'abbiamo un po' messo da parte cosa che non è andato via come desiderio come bisogno ma forse l'abbiamo messo da parte per la cultura che abbiamo noi che è una cultura che si è allontanata dal concetto di divertimento legato poi alla vita adulta cioè l'adulto nella nostra cultura è colui che non gioca non scherza si prende sul serio è colui che non dice più parolacce di cui non manda più a fanculo nessuno di chi non si arrabbia starretto bello di chi non vuole fare il politicamente corretto perché se no rompe rapporti istituzionali cioè siamo diventati una cultura dove non ci permettiamo nemmeno dove l'adulto non gli viene dato il permesso di esprimere quelle emozioni da bambino anche esplosive perché quelli le fanno con i bambini ma quelle emozioni esplosive sia di gioco che non di gioco ma anche di di rabbia di paura e tante altre emozioni che abbiamo come come essere umani non ce le permettiamo di esprimerle e quindi da adulti cerchiamo di contenerci perché ci è stato detto che l'adulto ci è stato smesso e noi l'abbiamo assorbito l'abbiamo preso come modello tutti quelli che fanno così più grandi di noi non lo ripetiamo quindi non ci permettiamo nemmeno noi di giocare se i nostri genitori i nostri nonni non l'hanno potuto fare perché noi guardiamo sempre più grandi per imparare ma le cose prima o poi devono cambiare quindi siamo noi adesso a lasciare un mondo più bello rispetto a quello che abbiamo trovato per i nostri futuri e le future generazioni quello che hanno fatto i nostri genitori lo porteremo avanti quindi i genitori i nostri nonni i nostri antenati eccetera eccetera la storia del passato è un'evoluzione quindi dobbiamo prendere atto delle cose meno funzionali e delle cose più funzionali di quelle che sono state nella storia dell'umanità una cosa che è stata messa da parte è stata frustrata appunto è il gioco quindi per dirla in breve quello che voglio dire è che se non non ci prendiamo cura delle nostre relazioni che possono essere relazioni sia familiari amicali di coppia di lavoro eccetera eccetera in modo non violento cosa che Marshall Rosenberg il padre della comunicazione non violenta lo dice da decenni quanto sia importante se non ci prendiamo cura poi del nostro corpo dal punto di vista proprio come come struttura che ha delle sue funzioni che non può stare fermo dalla mattina alla sera cioè il corpo è nato per muoversi quindi fare ginnastica respirare pulita mangiare cibo degno di essere chiamato cibo ok e poi quello di gioire di giocare di divertirsi di svagarsi di andare fuori dagli schemi e permettersi di fare quel bambino che non che poi è un adulto bambino non per forza di fare bambino anche gli adulti possono essere bambini in modo consapevole senza fare capricci quindi se non ci si prende cura di queste aree qui il lavoro che noi abbiamo per forza è diventato una cosa impossibile questo è quello che ti volevo lasciare oggi come come mio pensiero come mia riflessione spero che ti sia stata utile questa mia riflessione se lo è stata fammelo sapere puoi lasciarmi un commento un mi piace e scrivermi in privato sappi che questo video lo faccio per appunto anche educare quelle che sono le persone nel mondo del digital marketing che stanno affacciando si sono affacciate a poter cambiare trasformare la loro vita se vogliono farlo in modo sostanzioso con qualcuno che è in grado di farlo e io ho fatto un percorso ho creato un percorso proprio per aiutare questi tipi di problemi di professioni come i marketer come i freelancer a superare determinati momenti di vita che sono magari per loro importanti e vogliono qualcuno di cui si possono fidare e che li sappia ascoltare se ti interessa questo sappi che ho un percorso e sotto il link in descrizione potrai trovare più informazioni ciao